Musica E ragazzi come va? Io sono Fereniki Io sono Stef e chi si chiama Roblox E se la scorsa volta abbiamo costruito una palestra Questa volta dovremmo scappare da una palestra Mi sembra già più plausibile nel tuo caso Cioè ti ci vedo più da scappare che da costruirla una palestra Però è stato divertente che costruirla Mi sono divertita tantissimo a farmi i muscoli Però è arrivato il momento di fuggire da una palestra Anche se poi Questo signorotto qua col fischietto Ti fa come on let's get fit Quindi muoviti, allenati Capito? E noi scappiamo perché abbiamo paura di allenarci Ma secondo me ti fa scappare Magari ti fa credere che ci si può credere Per allenarti Quindi è una buona cosa Bisogna sempre tenersi in forma Comunque non sappiamo se ne faremo due come sempre Vediamo un pochettino in base a quanto è carino questo Se ci piace molto facciamo solo questo Altrimenti poi mettiamo anche una giuntina dopo Diciamo che se l'improvvisa queste cose Iniziamo andiamo Forza, forza, forza Vai E vabbè Guardalo Dice ho bisogno di caramelle Quella sono io Eh sì Quella sono io È la mia rappresentazione perfetta Soprattutto di pancia e di caramelle Guarda Ti giuro che sono identica Guarda la faccia disperata nel tipo Ma dove sono finite le caramelle Per quello ti dico che sono io Stavo guardando un po' troppo Però qua c'è anche la Coca-Cola E per la Coca-Cola invece sei tu No No Allora questi sono gli esercizi più noiosi da fare Perché devi fare un sacco di cose con le gambe Non hai capito Opla Opla Sono già stanco Anche io guarda Ho già il fiatone No No E quindi il brio poi Attenta a non cascare Attenta a non cascare Oh mamma mia Dimmi Anche se siamo solo tipo alla seconda o terza parte È fantastico È già bellissima ma guarda È bellissima è super a tema Oisa 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 Yeee E adesso Oisa 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 Ah tutto da salire Ok Yeee Proprio ti fanno faticare la grande qua eh Te la fanno sudare questa uscita dalla palestra Te la fanno davvero sudare No No vabbè No è un trampolino Io qua ci muoio Ah Aiuto Sì Oh aiuto Devi beccare quando salti molto E and Aia Andartene Due pari Morti tutti e due Ma no Sì in contemporanea Ma no Perché è difficile beccare quando salti più in alto in quel momento Capito Uff Aspetta Uff Salto piano Ok sto cercando di prendere il ritmo Secondo me uno due Uno due Quindi uno basso e uno alto Uno basso Uno medio Forza forza andiamo avanti Veloce Questa è una specie di arrampicatina al contrario Sì è stranissima Andiamo 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 Prossimo livello Dobbiamo schivare di sicuro Vero? Se li tocchiamo secondo me Moriamo Quattro Allora Allora Quattro a tre Stavo inciampando su un tuo braccio Puoi prendere il vantaggio Ti spingo Non ci provare Ti spingo Ah io vado piano Io però sono scarso a schivare le cose Mamma mia Poi tu sei grosso Aiuto Esatto C'ho questa bracciona gigante No mi ha fregato all'ultimo Ma no Quattro a quattro Se ti muovi molto Ti prende Quindi devi farli Capito? No secondo me Ti cominciava a passare a sinistra Era molto più largo Rispetto alla destra Ah quindi cercare le cose più larghe Sì 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 Tipo qua C'è un grosso problema E adesso? Io credo che questo ci voglia Prendere a pugni Quindi mi sa che devi Tipo entrare E scappare Scappo No non ci provare Non ci provare Non ci provare Ma perché non l'ho fatto Praticamente Ti conviene stare sopra la corda Ok Senza scendere No senza scendere Capito Rimane attaccato a te L'hai visto? Ah ok sta guardando a me Vai Hai buggato Io ho visto la genota Ti stavo inseguendo Con una cattività Sì lo vedevo dietro Lo vedevo Siamo arrivati al yoga È bellissimo questo escape È davvero bello Sì l'hanno fatto benissimo Ma posso avere una bottiglia d'acqua Sai sono stanco No non ci danno nulla Sono un po' tirchi Andiamo è tempo di yoga Mi hai spinto Cioè mi hai spinto Sei un brutto disgraziato Cioè fatta apposta No c'è una cosa stranissima Fai attenzione Fai attenzione Vieni mangiato Vedi questo è quello A cui prima Non hanno dato i dolci Adesso si mangia ai clienti Perché giustamente Non l'hanno accontentato Sì Dovevano dargli da mangiare Guarda questo è il tuo livello Aiuto Pizza Patatine Questo non è il mio livello Questa è la mia pancia Esatto anche È direttamente ciò che c'è Dentro la pancia di Steph Tutti i giorni Aiuto Che poi hai notato Che ci sono dei fili rossi Sopra la testa Che se magari salti troppo In un punto Li colpisci Ah sì Non li avevo notati Non li avevo notati Sono pericolosi Una mole che non li ho beccati Una mole che non li ho beccati Che schifo questo Allora Sei caduto di sotto Quindi secondo te Come si fa? Devi saltare solo nei gradini Ah Capito Devi fare così Ma come fai? Così Capisci? È un po' complesso È un po' scomodo Ma è molto scomodo È molto complesso Vabbè almeno un escape difficile Ah sì guarda Rispetto ai soliti È un pochettino più difficile Dai che ce la fai Eh ma sopra la testa C'è questo coso rosso Oddio L'ho sfiorato Vai 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 Aiuto Aiuto Bravissima Oh no No Aiuto È tutto ok? Sì Sì Ma stiamo andando in tondo Ok 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 E adesso? Guarda che cos'era No ma Oh no ti sei bagata? Sì Oh no Perché sei rimasta qui? Non dovevo cadere di sotto Ah ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Guarda da dove sei uscita Ah Ah E guarda lui Sono rimasto tanto Si sta scusando Perché ci ha fatto uscire In modo non convenzionale Ricapitoliamo Non gli hanno fatto mangiare i dolci Si è mangiato a noi Siamo finiti nel suo stomaco E ci ha fatto come pupù E siamo diventati la sua pupù E guarda lo so che sei dispiaciuto però Dai è stato diventato Da bellissimo escape è diventato un escape pupuoso Esatto Adesso dovremmo andare È tempo di nuotare Piscina Piscina E adesso che succederà? Ragazzi come si fa? Ci provo E poi? No è impossibile Vai vai Cioè non lo so Scivoli molto perché Fallo tutto saltando Vedi? Guardami Scivoli perché è bagnato il pavimento Vieni 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 Perché poi il vero livello è qua Vedi? Ah ok Ecco qua Sì eccolo qua È bellissimo davvero Dice non imbrogliare Ti sto osservando Scusa voglio vedere cosa succede E io che ti seguo pure E io che ti seguo pure Era scontato Però volevo la conferma Volevo la conferma che davvero ci stava seguendo Ci stava controllando Saltiamo sulle papperelle Andiamo No l'ho buttata di sotto Come? Non lo so Ma che bag è? Forse si può fare Penso che si possa fare una alla volta Quindi aspettare che tu Vai 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 Devo rifare tutto No Mi ha buttato di sotto Non è giusto Guardami Mi sa che appena superiamo questa linea Avremo la velocità E quando arriviamo alla linea Quindi prima di quella linea Dobbiamo risaltare E superare l'altra linea ancora Quindi uguale al salto in lungo Però su Roblox Credo che sarà complicato Io non ho capito nulla Vado per primo Vai No davvero non ho capito nulla Geronimo Sì Sì è così E quindi? È stranissimo Vai Vedi Oh mamma mia che strano Divertente però questo Sì sono molto particolari Molto diversi dal solito E infatti io pensavo Facciamo la gara Perché di solito ci sono sempre le solite cose Dove si salta Invece tutto strano E moriamo come dei pescinessi Stiamo morendo tutti e due un sacco di volte Davvero complicato Perché è bello Perché non ce li aspettiamo È una buona cosa È positivo Che gli escape sono troppo semplici Invece finalmente c'è qualcosa di diverso E di molto particolare ci fanno stare su un aereo No 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 Skydiving vuol dire che ci dobbiamo lanciare col paracadute No grazie No No davvero dobbiamo farlo No 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 non lo voglio fare Ma me l'ha dato? No me non l'ha dato A me non me lo sta dando Ah lo devi cliccare Ah ok Aspetta E adesso? E adesso dobbiamo saltare Ah c'è l'isola sotto E dobbiamo atterrare È la cosa finale No Dobbiamo riuscire ad attirare sull'isola Chi va per primo? Io non ce la farò mai Vado Vai Mi guardo la tua scena Vado Ma dovevi Credo che dovevi si attivarlo dopo un po' di tempo Così ci Ah no Così ci metti una vita in mezzo Poi ti va per i tuoi Vabbè lo posso levare E per rimetterlo Eh sì Certo Oh mamma mia ti ho visto morta Ce la fai? Secondo me no È il mio turno Fatto Ce l'ho fatta Adesso ti aspetto qua e ti vado ad arrivare Allora È molto lento È molto lento Voglio fare una cosa Mi accentro perfetto Perché vedi che c'è il quadratino verde Sì Voglio centrarlo cadendo Dai Io ce l'ho fatta Io alla fine sono caduta lì Sì però Ci provo da così in alto Capito? Che che se Strane Ti dicevo io ce l'ho fatta Capito Perché dopo un po' lo levi Cioè tanto che sei sopra Non ha senso portare il paracadute Concentrazione Allora Secondo me ancora un pochettino Ti vedo un puntino Lontanissimo Ancora leggermente Vado 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 Ci sono? No Ma neanche per idea c'eri Lasciami in pace Ma perché ci sono queste casette? Non lo so Cosa sta succedendo in questo posto? Questo è per dire che l'hai finito? Questa specie di cosettina? Ci ho provato Ma non mi è sembrato che ti desse niente Era boh Vabbè Ci sono soli percorsi come sempre Mi prendo tutte le cosettine Sì E dentro le casette Che cosa succede? Niente Non ci puoi entrare Giusto Io non riesco a entrare Tu? No E sono incastrato con i patti Un attimino Però no Non mi faceva entrare Non è che devi Prendere il colore Della casa dove vuoi entrare? Ho troppa fantasia Eh forse sì Vero Secondo me sì Decisamente Così Scusi Posso entrare? Scusate No Non fa Dai Non fa Non ha senso No è finito così Penso che sia semplicemente Un ambiente Per finire le escape E allora voglio dire una cosa È stato carinissimo Come escape Ok Però alla fine è deludente Sì Mi aspettavo qualcosa di diverso Di solito ci divertiamo un sacco Nelle cose finali Ci sono un sacco di oggettini Un sacco di cose da provare E invece questa volta Ci hanno lasciato senza nulla Esatto Con delle casette che neanche si aprono Comunque ci fermiamo così Direi che va bene Con soltanto questo escape Perché è stato davvero carino E pieno di livelli diversi Da soliti E appena è arrivato anche un consolino Che sicuramente Ha finito Ci fermiamo così Speriamo che vi sia piaciuto Questo escape Secondo me è stato Super divertente Quando sono a tema così Palestra Scuole Prigioni Sono ancora più divertenti Esatto E niente Ci fermiamo così Bene che si riusciva così Su ci piace C'è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.